cari amici del volto del ring benvenuti in questo nuovissimo video di unboxing di dvd wwe oggi sempre dal regno unito mi sono arrivati due nuovi pacchi il primo contiene summer slam 2010 guardate che bello l'incredibile sfida tra il team wwe e il team nexus andiamo a vedere la coloratissima cover di questo dvd guardate che bella tra le lingue da notare che c'è anche quella italiana guardate un po che bello ecco qua abbiamo il disco del pay per view e poi qui abbiamo una delle consuete locandine con tutte le migliori uscite qua stanno precisando anche smackdown versus raw 2011 passiamo all'ultimo eccolo qui ragazzi l'eterna rivalità tra triple h e battista che qui volge all'ultimo capitolo vengeance 2005 ragazzi guardate che figata guarda anche la cover mamma mia arte qua dietro le immagini migliori è il match battista con triple h john cena contro chissian contro chissierico per il titolo da bw è davvero molto altro da notare poi guardate che bello qua abbiamo il disco e poi qui abbiamo adesso non sarà aprirlo perché con una mano tengo il telefono e con l'altra la confezione però qua c'è il mega poster che contiene in sostanza a questa immagine della copertina e poi e poi qua c'è la consuetà locandina che ci guida alla scaletta del pay per view con sicuramente la pubblicità per altri contenuti da bw e vengeance 2005 e summer slam 2010 bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate mi piace in questo caso ma soprattutto l'iscrizione al canale per farlo crescere sempre di più il video appuntamento al prossimo video di unboxing spero al più presto dipende tutto da quando mi arrivano i pacchi ciao ciao